Ciao a tutti, volevo farvi una breve introduzione ad un contenuto un po' diverso dal solito Oggi vi propongo una chiacchierata più che un'intervista con una persona che mi ha lasciato veramente tanto si chiama Concita De Gregorio e ha scritto un libro che si chiama Cosa pensano le ragazze quindi in occasione della presentazione del suo libro e del mio libro ci siamo incontrate a Inizia Monferrato abbastanza recentemente e siccome avevo delle domande da porle ho deciso di riprendere mentre abbiamo fatto appunto questa chiacchierata mentre lei mi raccontava delle cose veramente interessanti perché mi faceva piacere condividerlo con voi e quindi niente, vi lascio al video Allora, la mia prima domanda Ma tu poi fai un montaggio, scusa, posso intervenire? Sì, non vuoi fare delle domande a chi? Cioè, tu poi va tutto quello che giri oppure lo monto? No, no, io monto Ah, lo monto? Alcune cose, sì Ah, ok, perfetto Quindi sto più rilassata Sì, sì Prima domanda era l'approccio che una persona che ha iniziato a scrivere su carta e che poi si è ritrovata a doversi interfacciare con i nuovi mezzi di comunicazione che sono i social network Qual è stato? Come hai reagito? E se hai iniziato ad utilizzarli subito? Se li hai rifiutati e poi... No, no, io sono... Tutte le cose che cambiano e che facilitano sono un regalo Quindi quando sono arrivati i social per me sono stati... Anzi, forse prima di altri mi sono dedicata... Ma io avevo già subito uno shock perché io ho cominciato quando non c'erano i computer Quindi io prima ho cominciato a scrivere sulla macchina da scrivere Che è una cosa bellissima che consiglio a tutti proprio come un'esperienza proprio di piacere Tu metti la carta dentro il rullo... Adesso non pensare che io sia, diciamo, una bisnonna... No, 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 ma io adoro le macchine da scrivere E' come fare da mangiare, come cucinare, capito? Quando tu cucini, un conto è mettere una roba precotta dentro il forno che poi i pop corn che si fanno da soli Un altro conto è mettere i chicchi nella padella e vederli saltare Ecco, è la stessa cosa, è più bello, no? Mettere il rullo, girarlo e scrivere con la macchina È quasi anche un gioco Poi segue il tempo del pensiero E danno un po' una piccola ansia da prestazione questi passaggi Perché all'inizio non lo sai fare Poi capisci che è più comodo Ma come tutte le cose più comode qualcosa ti dà e qualcosa ti leva Ti toglie la lentezza, ti toglie il contatto con una cosa fisica Che è di nuovo come la cucina, no? È come impastare, pasta, stenderla Poi quando sono arrivati i social, io, insomma, ero già lì Però sai che cosa hanno i social? Questo tema della velocità Che di nuovo da una parte è un pregio, da un'altra Non ti dà il tempo di gustare le cose Non ti dà il tempo di stare Cioè le cose hanno un tempo, no? Hanno proprio il loro tempo Per andare da qua a là ci vogliono 40 passi E questo è il tempo di questa cosa È come se fosse la sua impronta digitale, la sua voce Se io lo faccio, adesso non è questo il caso, ma con un jet Io perdo una caratteristica di questo spazio Che è il tempo Allora, la velocità con cui per esempio si commenta sui social Secondo me è un po' più alta, è un po' più rapido il commento del pensiero E ti può capitare spesso di scrivere qualcosa che non pensi davvero Cioè tu per criticare Sofia Viscardi Devi aver letto Sofia Viscardi Per aver sentito Sofia Viscardi Per criticare un libro Il gatto pardo Vediamo adesso con il mio figlio piccolo Mi ha detto Sto studiando questo Giuseppe Tommasi di Lampedusa Che praticamente in tutta la vita non ha fatto niente Ha scritto un libro solo E ho detto sì, è vero, però era molto bello Quindi forse Ecco, lui non lo legge Mi ha detto mamma ma c'è l'audiolibro? E ho provato a spiegargli questa cosa qui Quando tu senti una voce, una musica, la impari E impari la pronuncia delle parole in inglese dalle canzoni Impari il tuo tono di voce, lo riconoscono tutti La stessa cosa succede quando la vedi Perché esiste una memoria dell'udito E esiste una memoria della vista Se tu la parola la vedi scritta Te la ricordi come un oggetto Se io vedo questa La vedo Fai conto che questa sia la parola poesia Io la vedo E per sempre chiudo gli occhi e vedo questa E mi ricordo che poesia si scrive così Ed è questo Se la sento Me la ricordo da un'altra parte del cervello Ma non la vedo mai E non avendola mai vista Faccio più fatica A ricordare le parole scritte A leggere altre cose Guarda, ti faccio questo esempio Ieri ero a Cuneo Il sindaco di Cuneo è cieco E allora ho parlato tantissimo con lui Di questa cosa della vista Perché lui è diventato cieco E mi ha detto Beh, l'udito è una Tu puoi imparare tutto attraverso l'udito Però sapessi Che differenza c'è Fra vedere una cosa E avere il tempo Di riflettere sulla cosa che vedi E ricordartela perché l'hai vista È come imprimerla nella pietra Invece ricordartela perché l'hai sentita È come imprimerla nell'aria È diversa la sostanza, capito? Non è un giudizio E non è nemmeno la moralina È che a me dispiace Che poi ci sia un pezzo in meno Siccome io lo so che ci sarà un pezzo in meno Vorrei che questo pezzo ci fosse In quanto mamma di figli Nell'era dei social Qual è il tuo approccio Con i tuoi figli Per quanto riguarda i social network Ti dicevo prima questa cosa del porno, no? I miei figli sono tutti maschi Io quando loro hanno avuto 10-12 anni Figurati, sono una paladina Delle libertà assolute Per cui non è Vietare una cosa Significa solo farla fare di nascosto È assurdo, no? I divieti sono Però Fra Per esempio Imparare come si sta con una ragazza O con un ragazzo Da qualcuno che te lo racconta Immaginarselo Guardarlo su un giornale Anche un po' Così che non diresti a casa Che l'hai comprato Ci fermiamo un momento? Glielo vogliamo dire? Allora, quindi Questa cosa mi sono posta il problema Perché ho pensato Se un ragazzo A 10 anni Che non sa come si fa Non l'ha mai fatto Se l'ha solo immaginato Non lo sa Io me lo ricordo Quando non sapevo come si fa l'amore Che cos'è il sesso Se lo scopri su U-Porn Secondo me Non va bene Perché da una parte Provate a immaginare Di non averlo mai visto Di vederlo la prima volta così Da una parte Ti può venire in mente Che è sempre così Che è tutto così Che anche tu devi fare così E se sei una ragazza Ti metti nell'ordine di idee Che dovrai fare quella roba lì E se sei un ragazzo Che anche tu dovrai fare Quindi ti può venire un'ansia E poi Un'ansia da prestazione Per me E poi non è vero che è così Perché nella vita Non succede quello Magari poi sì Dopo tanti anni In qualche momento speciale Però all'inizio Quando incontri una ragazzina La prima volta O un ragazzino E vi dai un bacio Magari Fai sesso con lui Ma è tutta un'altra cosa È proprio tutta un'altra storia C'è un C'è un po' di paura C'è un po' di incertezza C'è un po' di È bello perché è così Perché c'è tutta una roba Che non si sa come si fa Che E quindi io penso che Le immagini in movimento In quel campo lì Quando uno le vede così presto Sciupano una cosa bellissima E quindi non è una censura È come un desiderio di tutelare Di proteggere una cosa così bella Cioè È più bello se lo scopri da solo E se lo insegna qualcuno E se poi col tempo Diventi anche Superman Però Dall'inizio no Perché altrimenti Proprio ti porta via Un pezzo importantissimo Di cose meravigliose della vita Questo era tutto Questo è il romanzo di Concita Che è Cosa pensano le ragazze E lei da molti anni Intervista Tante ragazze Di età diverse Facendo sempre le stesse domande Per un progetto Che sta portando avanti Che è molto interessante Come mi ha detto lei All'interno del libro Non c'è la risposta Alla domanda Cosa pensano le ragazze Bensì La domanda ripetuta Tante volte Il suo libro appunto È una raccolta Delle storie più divertenti Che sono emerse Dalle sue interviste Sono anche io Una delle ragazze Che lei ha intervistato Per questo progetto Vi lascio il link Dell'intervista Che lei mi ha fatto Tempo fa Qui sotto E quindi niente Spero che il video Vi sia piaciuto E vi mando un grosso bacio